eccoci arrivati eccoci arrivati il GAM X purtroppo è una mescola di merda non ha aderenza come dicevo il GAM X della Michelin non ha nessuna aderenza eccoci arrivati guarda che formicaio che c'è qua eccoci arrivati so eccoci arrivati eccoci arrivati eccoci arrivati siamo su la strada per Casera La Pala e Montelunga eccoci arrivati 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 eccoci arrivati